È stato come il primo giorno di scuola per i cantieri dell'Aquila. La campanella è suonata, ma la giornata è stata per lo più dedicata ad adeguare le aree. Per vedere gli operai si dovrà attendere ancora qualche giorno. Sono ripartiti i cantieri più grandi, come quello di Palazzo Margherita, ex sede del comune, e mercoledì prossimo dovrebbe riprendere l'attività anche il cantiere del complesso di Sant'Emidio, meglio conosciuto come il Duomo, uno dei più grandi del capoluogo. In queste ore si sta approfittando del bel tempo per sistemare gli ultimi e fondamentali dettagli all'interno dei cantieri per renderli adeguati e sicuri. La ripresa sarà comunque graduale. Partiranno per primi i cantieri nei quali gli operai sono già stati sottoposti a tampone, dopo la tanto discusso ordinanza del sindaco Biondi, che ha reso questo strumento obbligatorio per la riapertura scatenando anche le rimostranze di diverse associazioni di categoria. I primi 100 tamponi sono stati tutti negativi. L'ANCE e l'Associazione Nazionale Costruttori proseguirà l'opera facendo altri 500 tamponi al giorno ed anche la CNA ha predisposto uno sportello al suo interno per effettuare i tamponi. I cantieri ripartono anche nei 56 comuni del cratere con un protocollo per tracciare gli spostamenti degli operai. I costi rimangono tutti a carico dell'impresa, ma il sindaco Biondi chiede che il governo se ne occupi e che ne faccia una priorità.